in mezzo alle groglie la dice io sono nata al gherte sapete che in cimbro significa giardino ma se ne significhesse tanto la roba non so se la le dire comunque si è messo lì a segare nel praga si è messo lì a segare si è messo al gherte se ne offenderà ma assuma la verità e al caso di allegrio segare questo pelo a mano e il tribolo è assurda come una bestia passa da lì un signore e i signori sa piacere non anche perché piacere aggiornare delle tecniche a Verona allora il garito buongiorno e il vice senta ma se che lo sempre puoi fare tutto il dilu e per forza non lo faccio è sempre fatto così bene scusa il salo mi sono un ingegnere da Verona bene buongiorno ingegnere mi dica no vorrei a dir che dargli un suggerimento che lui e sapesse sto ferro siccome da una lama sola no lui vada dal ferrarito fuori lì a Lorena che si chiedeva a contrarre e gli ha fatto un altro ferro con l'altro calo un'altra lama allora lui fa un colpo a destra un colpo a sanca o che dice fa due antane al colpo sarei a due striccole una avanti e una in rio e dice ma io non ho mai sentito il mestere compagno ma bisogna aggiornarsi e non si può non restare in rio con i tempi allora sto parlando va là dal giro del ferrarito che dice tacchemi un'altra lama con l'altro calo ma ci sto perso no mi ha detto un ingegnere che è passato ah beh se mi ha detto un ingegnere che attacchiamo e allora la mattina le la tre e tre e tre e tre e tre madonna si gira in rio e vive due antane dei fengi e resta essere fatto e dice ho fatto doppio lavoro del solito ma mia santissima che bella idea che da questo ingegnere ma come è che è passata da lì la rinassata passa questo ingegnere in un'altra ora a fare questo gire e tu le agate e che dice come ricateo con le dolame ma bene non tribulo perché le piace un lavoro pesante però a dire la verità ho fatto un mestetto e dice stag'attento che dà un altro suggerimento e il ciava e il restè e il se ne viga la gamba e dice che intanto si viga con le mani e dopo con le stelle strapega e dice venga tutto spiana tutto desceso il femmine tra e Maria Santissima dice ma dizelo e dico dico sono ingegnere e si fa si fa e se le dica Maria Santissima e si e su e ne strapegata e si e su e ne strapegata tutto altro che si gira che tutto il fraco il femmine si secca in tutto il giallo insomma e metti via il femmine passa l'ingegnere e tazzo e dice com'è la donna domo beh no ma sono distrutto le due dice che non tiro neanche il femmine ho messo via tutto il femmine non gli dico che è strappo beh dice veni a bere il caffè ingegnere a casa mia sta occhiare ma loro si disturba ma l'alvea qua non fa piacere ma insomma e va lì in casa chiamano la sua donna Maria Maria vieni a fare un par di caffè ma piacere sta donna non la risponde non le cata non le sente e dice ma la ghera chi stamattina a buon'ora quando sono fuori o con dieci va su in camera e la Maria è là e si ha un butello e le dice Maria ma si è toccava qua e le dice mi dispiace se hai fatto dei torti però dice insomma si te sei nella vita si te me trastura massa pastura uro e te sei mi sono rangiata e allora le dice buttalo tutto tutte sulle patostrasse al caso della finestra e ti Maria fa un piazzer pepe te ne è pulito mettete su un topo del diabito e vengo fare il tuo caffè perché dice se quel sol se ne ha cose che vengo anche i corni di mattina e mi infila un par di bale di fe in testa voglio dire quanto sono belle le mie montagne ecco questo senza le mie montagne le fate le resa non le gaffale non le gassime con le corve le mie paspale vestire le arfia libere le se descende con mughe e l'arasi le si fa ubria le mie montagne cusinei e casa mia quando la sera le se indormenza e la ne viola fuma dai vai sigo la merli ronde ne vola e nasce la luna da cesanova la vengono a piano sbregando i pini la vengono insieme a un vicinello che da distante parca le cuna che gli fa intorno un mulinello le le montagne cusine fate de usei de verdo de vento e sol non le galagheti non le gazzassari ma come tutti sti montagnari quando sono distante drento meruma tutti sti pini sotto la luna grazie